Dettato numero 50. Tonalità. Esecuzione dell'intero dettato per il riconoscimento del tempo. Esecuzione dell'intero dettato. Nota di partenza. Dettatura a frammenti. Elemento A. Collegamento elemento A all'elemento B. Elemento B. Esecuzione dell'intero dettato. Esecuzione dell'intero dettato. Esecuzione dell'intero dettato. Collegamento frammento B al frammento C. Fragmento C. Esecuzione dell'intero dettato. Collegamento frammento C al frammento D. Esecuzione dell'intero dettato. Esecuzione dell'intero dettato. Esecuzione del test. Esecuzione dell'intero dettato. Esecuzione dell'intero dettato. del dettato per un ultimo controllo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.